Vittima di un piano odioso. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan, nel vortice dello scandalo per corruzione, punta il dito contro le intercettazioni in cui chiede al figlio di disfarsi di somme di denaro conservate in casa o presso persone vicine alla famiglia. Ho detto, rendete pubblico tutto ciò che avete e ne è stato fatto un montaggio immorale per poi pubblicarlo. Le telefonate compromettenti risalgono al dicembre scorso, quando è scoppiata la tangentopoli turca. L'opposizione ha chiesto a Erdogan il passo indietro. Il primo ministro turco si è macchiato di reati come furto e corruzione. Dovrebbe dimettersi immediatamente. La Turchia non può portare questo fardello. Lo scandalo seguito alla maxinchiesta per corruzione esploso in dicembre causò le dimissioni di tre ministri, dell'economia, degli interni e dell'ambiente. In totale il rimpasto del governo guidato da Erdogan al suo terzo mandato consecutivo ha coinvolto dieci ministri.